In merito alle notizie recentemente diffuse dai mezzi di stampa sento innanzitutto il dovere di precisare che non ho mai utilizzato la mia carica per scopi personali, non ho mai compiuto atti che hanno deliberatamente penalizzato il bene comune, non ho mai agito contro qualcuno o qualcosa per favorire altri e quanto precisa il sindaco di Vallo Antonio Aloi ha finito insieme ad altri amministratori al centro di un'inchiesta su presunti appalti truccati. Nel corso della mia lunga esperienza amministrativa, prima come capogruppo di maggioranza, poi come assessore e infine come sindaco di Vallo, dice il primo cittadino, avrò commesso certamente orrori ma ho sempre agito nella massima legalità e trasparenza. Sono un servitore dello Stato, sono un servitore della mia comunità, ne sono onorato ed orgoglioso, siamo uomini e donne amministratori che si muovono nella frontiera della lotta per la legalità, del sostegno allo sviluppo e al lavoro per raffermare i principi di equità sociale. Ma non posso negare che talvolta ci sentiamo assediati e in trincea, cioè nonostante accompagnato dall'amore e dalla passione per il bene comune, il mio impegno continuerà in questo cammino, pieno di tante soddisfazioni e irto di molte difficoltà e proprio per questo è entusiasmante. Ho scelto di essere giudicato con il rito abbreviato chiarisce Aloia perché è l'unico strumento che mi consente di chiarire rapidamente la mia totale estranetà al fatto che mi viene contestato. Sono certo che questa triste vicenda si risolverà nel più breve tempo possibile in quanto nutro la mia totale fiducia nell'operato della magistratura, fiducia che ciascuno in uno Stato di diritto e di democrazia ha il diritto e il dovere di riporre.